Le quarantene saranno previste, quindi l'isolamento solo per i studenti positivi, mentre le classi, sia con un numero minimo che alto anche di positivi, non vanno in quarantena. Dal primo aprile, con la fine dello stato di emergenza, nuove regole anche per le scuole primarie, medie e superiori. Con almeno 4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza, con obbligo di mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto. Per i ragazzi in isolamento sarà possibile seguire la didattica a distanza. Da domani però ci sarà il nodo dei docenti senza green pass rafforzato, che potranno rientrare a scuola ma non potranno stare a contatto con gli studenti, quindi fare lezioni in aula. Rimarranno a disposizione per attività di supporto, per compiti di supporto all'attività scolastica. Vedremo come i dirigenti, anche nell'ambito della loro autonomia, penseranno di utilizzare questi docenti. Peraltro si attende in merito un'altra circolare del Ministero che possa chiarire meglio come utilizzarli. Novità anche sul fronte trasporti, non sarà più necessario essere in possesso del green pass e torna la capienza al 100%. Con le capienze al 100%, con le misure che continueranno a permanere, cioè igienizzazione piuttosto che indossare le mascherine FFP2, consentiranno al sistema di trasporti della provincia di Treviso di dare le risposte che fa bisogno. Offriranno ancora dei servizi aggiuntivi per quelle scuole che mantengono un orario cadenzato. E a proposito di scuola, oggi la provincia ha illustrato ai dirigenti scolastici i lavori di efficientamento energetico in 31 istituti superiori della marca su 37. Gli interventi, in cui il costo si aggira intorno ai 4 milioni di euro, permetteranno di risparmiare 1.700 tonnellate di CO2, riducendo del 30% il consumo di energia per l'illuminazione.